Ha fatto il suo debutto ufficiale in stazione centrale a Milano il primo dei 63 nuovi treni che nei prossimi anni entreranno in servizio in Lombardia. Saranno dedicati in modo specifico al trasporto dei pendolari sulle tratte che più di altre hanno registrato di servizi sul materiale rotabile. Ogni giorno sui convogli di Trenor viaggiano in Lombardia oltre 670.000 passeggeri. Vengono utilizzati ben 330 convogli che effettuano complessivamente 2300 corse. Per migliorare questo servizio la regione ha deciso di stanziare in due anni oltre mezzo miliardo di euro a conferma della volontà del Pirellone di rispondere alle esigenze dei pendolari lombardi. L'obiettivo è di recuperare efficienza in un settore che resta strategico per lo sviluppo economico della regione.